E' tempo di nomine, entro 24 ore dovranno essere consegnate le liste e nominati gli assessori, anche solo tre in prima battuta, come prevede la legge. Michele Giaratana, candidato di centrodestra, ha deciso di nominare tre dei suoi fedelissimi, aspettando i risultati della coalizione. Sono Arcangelo Pirrello, geologo, già assessore dell'Aggiunta Mancuso e designato assessore anche nella scorsa competizione elettorale dallo stesso Giaratana. E poi ancora Sonia Sollami, consulente del lavoro, amica personale di Giaratana e tra le fondatrici di Caltanissetta, protagonista. Ed infine Simone Cusumano, anche lui seguace della prima ora. Giovedì alle 16.30 in un bar del Centro Storico, in Corso Umberto, il Movimento Open e Politiche Aperte presenterà durante una conferenza stampa gli assessori e i candidati al Consiglio Comunale. I cinque assessori nominati da Rocco Gumina sono Giancarlo Ciulla, vice sindaco e assessore all'innovazione, allo sviluppo economico e alle attività produttive, alla Polizia Municipale, Giovanni Bunoni, scuola, università, cultura, turismo, politiche giovanili, Anna Maria Lapis, politiche sociali, politiche abitative, e ancora Enrico Lipani, bilancio, patrimonio, tributi, contratti e Fabio Mocciaro, urbanistica, mobilità, lavori pubblici e ambiente. Lo aveva annunciato Giancarlo Cancelleri durante la presentazione di sabato al centro polivalente Michele Abate che a breve il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle avrebbe presentato la squadra di governo che lo accompagnerà una volta eletto. Ad affiancare Roberto Gambino saranno Luciana Camizzi, dottore commercialista, presidente dei giovani commercialisti, supervisor in un call center, grazie a Gianmusso, imprenditrice, Giuseppe Lamenza, consulente, titolare di una società di sistemi informatici. Quest'ultimo nominativo designato dal Movimento Più Città, una collaborazione che non è andata a buon fine rispetto ad un'alleanza in coalizione ma che comunque ha raggiunto l'obiettivo quello di allargare la base dei 5 Stelle. Per Salvatore Messana, al momento, unico assessore sicuro, Ettore Garozzo, che fu consigliere comunale assessore durante il mandato del compiento sindaco Michele Abate. Anche Salvatore Licata, candidato sindaco di Orgoglio Nisseno, ha scelto gli assessori che lo accompagneranno nel caso in cui sarà eletto a sindaco di Caltanissetta. Loro sono Liborio Giunta, 59 anni, insegnante di scuola superiore, Gianfranco Di Maria, sindacalista, 63 anni, Salvatore Bancheri, 61 anni, imprenditore nel comparto della ristorazione ed infine Agelo Palermo, 60 anni.